I carabinieri della Compagnia di Acropoli hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Salerno nei confronti di altrettante persone, già tratte in arresto nel territorio cilentano per spaccio di sostanza stupefacente. E' il caso di una 46enne di nazionalità rumena domiciliata a Montecorce, già tratte in arresto nel 2016 quando venne sorpresa ad Acropoli con un ingente quantitativo di troca che è stato raggiunto da un decreto di accompagnamento in carcere emesso dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Salerno, eseguito dai militari dell'Associazione di Perdi Fumo. L'altro invece è un 28enne pregiudicato di Capaccio Pestuma, che è gli arresti domiciliari in quanto tratto in arresto nel gennaio del 2018 per associazione finalizzata al traffico e lecito di sostanze stupefacenti, che negli scorsi giorni, a seguito di controllo eseguito dal personale dipendente, veniva sorpreso fuori dall'abitazione, dove si trovava ristretto, violando così le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Entrambi sono stati associati per si caccia di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie a tutti.